Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, questa notte un incidente in A1 tra Valdarno ed Arezzo in direzione Roma. In fiamme un'auto articolato che trasportava materiale di scarto. Il traffico è stato chiuso e poi ridotta una sola corsia. Inevitabili le codec si sono formate sino a 9 chilometri. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e personale della società autostrade. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo. E sempre nella tarda serata di ieri un altro incendio nella soffitta di una palazzina ad Arezzo in zona Giotto. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori della Croce Bianca di Arezzo. Non ci sarebbero persone rimaste ustionate o intossicate nell'evento. Le fiamme originate da un caminetto si sono espanse determinando il rogo, ma la famiglia all'interno dell'appartamento è riuscita ad uscire in tempo. E adesso ci spostiamo in Valtiberina dove cresce l'allarme furti dopo una scia di colpi tentati e messi a segno questo fine settimana. 8 colpi tra tentati e messi a segno solamente nel fine settimana. Cresce così l'allarme furti a Sansepolcro. Nel corso dello scorso weekend i ladri sono infatti entrati in azione con 5 tentativi andati a vuoto e 3 invece consumati, portando via alcuni gioielli in oro e denaro contante, un bottino di circa 2.000 euro. Nel mirino dei malviventi la zona, compresa tra il centro storico e la bassa collina, in pratica dove insiste l'ospedale della Valtiberina. Sono già diverse le denunce raccolte dai carabinieri della compagnia di Sansepolcro che stanno portando avanti le indagini. I militari stanno anche cercando di capire se vi possa essere un collegamento con i recenti furti che si sono consumati in Baldarno e se quindi possa essersi trattato della stessa banda. Simile il modus operandi, appartamenti quasi sempre vuoti, la tecnica utilizzata invece per entrare all'interno quella del classico foro accanto alla maniglia. In Valtiberina sul fronte sicurezza si era già instaurato il rapporto più stretto tra tutte le forze dell'ordine che operano in sinergia specialmente nel fine settimana e negli orari notturni a seguito dell'incontro in prefettura ad Arezzo. Voltiamo pagina. Temperature in netto calo in Toscana con possibile formazione di ghiaccio nei tratti stradali più umidi e generalmente meno esposti al sole durante la giornata. Per questo motivo la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso un codice giallo per ghiaccio valido dalla mezzanotte di oggi alle 9 di domani per le aree settentrionali e per quelle orientali. E in questi giorni di basse temperature c'è una scuola in provincia di Arezzo dove non funziona l'impianto di riscaldamento come dovrebbe in sette aule dunque studenti e docenti al freddo. A denunciarlo sono i rappresentanti dei genitori della scuola media Buonarroti di Sansepolcro. Il problema, secondo i rappresentanti, potrebbe prolungarsi per giorni se non a settimane. L'intervento infatti potrebbe essere effettuato nel corso delle vacanze di Natale. Il Comune ieri ha fornito alla scuola sei stufe elettriche come soluzione tampone e i genitori adesso chiedono un incontro urgente con la dirigenza scolastica. E adesso passiamo alla politica. Dopo l'assegnazione di alcune deleghe alla consigliera di maggioranza Cinzia Santoni si accende la polemica. La consigliera inizialmente era legata al partito della Lega era stata poi assente nel giorno di insediamento e approvazione del bilancio e in seguito aveva deciso di lasciare il partito di Salvini. Ad intervenire oggi è proprio il partito del Carroccio che si trova all'opposizione. Un quadro preoccupante è quello che si delinea in provincia scrivono dalla segreteria retina della Lega non crediamo a questo proposito che si scandalizzi nessuno se diciamo che siamo di fronte ad una maggioranza improvvisata che naviga vista e senza un orizzonte ben preciso rimasta immobile in attesa delle amministrative del 2024 perché solo dopo si potrà tornare a rinnovare il Consiglio provinciale. E adesso torniamo invece in Valtiberina dove sarà una domenica dedicata alla pace una marcia da Sansepolcro ad Anghiari accompagnata da letture con l'obiettivo di ricordare simbolicamente le atrocità e le perdite umane causate dalla guerra tra due luoghi che rappresentano la memoria dolorosa di conflitti passati. La marcia infatti avrà inizio dal monumento ai caduti di tutte le guerre a Sansepolcro e proseguirà sino al campo di internamento di Renicci ad Anghiari. A Cortona invece nella ricorrenza della settimana mondiale della diabete il Lions Club ha organizzato un convegno dal titolo Diabete di tipo 2. Proteggi la tua famiglia. Questa malattia ahimè colpisce tutti giovani, meno giovani, anziani quindi è giusto parlarne per farla conoscere. Noi Lions Corito Clanis di Cortona siamo particolarmente orgogliosi di portare avanti questa battaglia contro il diabete. Ogni anno organizziamo degli interventi e delle iniziative proprio a sostegno delle persone affette da questa malattia ma anche per prevenire la malattia. Il focus oggi sarà proprio sulla prevenzione e l'acquisizione di corretti stili di vita. La patologia del diabete di tipo 2 non faceva parte della fascia pediatrica fino agli anni 80 e dagli anni 90 poi si è cominciato a vedere sempre più un aumento di quello che è il precursore del diabete di tipo 2 che è il sovrappeso e l'obesità nei nostri bambini. È molto aumentata e questo provoca questa malattia fin da piccoli. Quando io ho cominciato a interessarmi dei diabete la prevalenza di questa malattia nella popolazione generale era di circa il 3%. C'era sempre il solito discorso di quel gruppo molto vasto di persone che erano diabetiche e non lo sapevano che sfuggivano alle statistiche. Ora siamo intorno al 7% quindi le cose sono davvero molto cambiate. E quindi come correre ai pari? Sicuramente parlando con il proprio medico di famiglia con il proprio specialista, con il nutrizionista e fare o una terapia farmacologica se ce n'è bisogno ma per quanto mi riguarda io aiuto i miei pazienti con questa malattia mediante la prevenzione e la cura della malattia tramite l'alimentazione che è di fondamentale importanza per ritornare ad uno stato non infiammatorio perché si può fare, si può regredire. Dobbiamo ricordare relativamente al diabete che il diabete non è solo controllo della glicemia ma il diabete è l'interessamento di organi quali il cuore, quali i reni, quali le arterie quindi una patologia multiorgano, multidisciplinare e che il medico di medicina generale vede quotidianamente nei propri ambulatori. È stato visto che il 35% dei pazienti diabetici viene visitato dal diabetologo l'altro 60-70% dei pazienti viene gestito completamente nel setting della medicina generale e questo ci impone due obiettivi la perseveranza su quelli che sono il raggiungimento di questi obiettivi ma soprattutto la obbligatorietà di aggiornarci e di essere presenti anche culturalmente nei confronti di questa malattia che è la epidemia del terzo millennio. Sempre in Valdichiana, Foiano, da oggi l'ospedale è intitolato al professor Lisi Maco Vegni direttore dell'ospedale dalla 1965 alla 1992 anno del suo pensionamento. Quello di Foiano è il primo ospedale di comunità in Italia creato dall'intuizione del professor Vegni che aveva trasformato la vecchia struttura ospedaliera nata nell'Ottocento all'interno del convento di San Francesco in una struttura moderna capace di accogliere le persone che escono dalla cura ma non sono ancora pronte per far rientro alla propria casa. A breve all'ospedale inizieranno nuovi lavori di ristrutturazione della struttura e presto il numero dei posti letto sarà raddoppiato. Voltiamo pagina ma restiamo in Valdichiana Castiglion Fiorentino dove Marchi Ramon ha deciso di acquistare la sua terza casa. Per me è un paradiso sono stato qua tempo fa poi sono tornato e abbiamo deciso appunto di comprare una casa mi piace il cibo mi piace il paesaggio mi piace la gente insomma qua sto bene Marki Ramon storico batterista de Ramones ha scelto Castiglion Fiorentino come sua nuova casa la rock star vero nome Mark Stephen Bell classe 1952 è una leggenda della musica membro per circa 20 anni de Ramones la banda new yorkese che ha lanciato nel mondo il punk rock dalla grande mela adesso al centro storico di Castiglion Fiorentino per il buon retiro in provincia di Arezzo tutto è iniziato tramite Ringo DJ di Virgin Radio con il quale avevano fatto un evento e lui aveva suonato addirittura sulla cima della torre in quell'occasione si era reso conto che qua fosse veramente un bel posto un posto tranquillo e siccome lui ha detto io mi muovo molto spesso per i concerti insomma delle volte sono veramente anche sconvolto insomma molto stancante e questo posto è molto differente dalla propria abitazione principale che è a Brooklyn a New York dove i ritmi, la frenesia, la confusione insomma qui è proprio l'opposto e quindi aveva deciso ecco avevano detto fin dal primo momento in realtà questo potrebbe essere un buon posto per stare e rilassarsi Ad aprile poi aveva assistito allo spettacolo di Pupo al Teatro Spina era così scoppiato l'amore per questi luoghi Ho conosciuto Marchi Ramone nella veste di artista di batterista proveniente dagli Stati Uniti d'America che arriva a Castiglion Fiorentino per un evento e poi da questo evento nasce una frequentazione che lui ha fortemente voluto con la moglie per imparare a capire la vita di Castiglion Fiorentino e della Toscana in generale gli è piaciuto molto e da lì è nata proprio la volontà decisa di acquistare una casa a Castiglion Fiorentino Ancora a Castiglion Fiorentino è stata la compagnia teatro necessario ad aprire la rassegna di circo contemporaneo al Teatro Spina Con la compagnia teatro necessario è iniziata la rassegna dedicata al circo contemporaneo per tutti al Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino tre appuntamenti domenicali per far divertire grandi e piccini con la maestria e le diverse abilità degli artisti in scena Credo che davvero sia un panorama di 13 spettacoli che si snoderanno tra novembre e aprile del 2024 che davvero daranno la possibilità ai tanti spettatori di poter godere di spettacoli di più varia natura Primo appuntamento con Nuova Barberia uno spettacolo divertente, allegro e fantasioso che va in scena da oltre dieci anni sia in Italia che all'estero con repliche dall'estremo oriente al Sud America Circo, teatro, clown, musica, mimo, cos'altro? Vabbè chi più ne ha, più ne metta a un certo punto non so più contare neanche io tutte le strabilianti avventure che succedono durante questo spettacolo Cerchiamo di mettere insieme tante discipline al servizio dello spettacolo in maniera che non entrino in modo banale nel racconto ma che siano un mezzo per raccontare in maniera più efficace quello che vogliamo dire che alla fine poi non è niente Nel cuore della città di Arezzo al circolo artistico invece è tornato il mercatino delle donne del Calcita Siamo di nuovo qui anche quest'anno con tante cose fatte a mano da tutte noi ben preparate ben sistemate tutti i bei pensieri da fare per Natale Con l'avvicinarsi delle festività è tornata la mostra di Natale del gruppo femminile del Calcita ad ospitarla come sempre il circolo artistico in Corso Italia che per l'occasione diventa scrigno di oggetti preziosi preparati e confezionati manualmente dalle donne del gruppo e non solo Eccezionali veramente perché queste signore che lavorano per il Calcita tutto l'anno mettono il meglio di loro stesse troverete tantissime cose belle tanto vintage che quest'anno ha spopolato abbiamo dei pezzi donati dagli aretini che ci vogliono molto bene lo sapete tutti perciò vi aspettiamo tutti qua al circolo artistico Il ricavato come sempre sarà destinato al servizio scudo e sempre alle cure domiciliari è andato anche quello del concerto per i 30 anni della band Duma Grosso oltre 7.000 euro Ashtag un anno con la giostra il titolo del calendario 2024 della giostra del Zaracino realizzato grazie all'ecofoto condivise dagli utenti di Instagram con l'omonimo Ashtag anche in questo caso un'iniziativa con una finalità benefica un progetto con il quale l'amministrazione comunale ha voluto dare visibilità a tutti gli appassionati di giostra che ogni edizione durante l'anno condividono sui social la bellezza della Zaracino Il ricavato di questa manifestazione sarà destinato a Casa Tevenin ma non è l'unico evento giostresco che animerà il prossimo weekend sabato 2 dicembre infatti il personale di poste italiane sarà nella sede di Signarezzi in via Bicchieraia per apporre un annullo filatelico speciale quest'anno è realizzato un bollo speciale che celebra la lancia d'oro dedicata al centenario dell'Arezzo Calcio Il MUMEC invece il Museo dei mezzi di comunicazione di Arezzo è pronto a trasportare nuovamente nell'avventura dell'Escape Museum i suoi frequentatori un progetto realizzato con il contributo dell'assessorato alle politiche giovanili del Comune all'interno del Bando per le Attività Recreative in cui il museo si è aggiudicato il terzo posto nella sessione autunnale tre dunque le nuove date in cui il MUMEC si trasformerà in un teatro di un gioco avvincente ricco di colpi di scena il 7, il 14 e il 21 dicembre 2023 e lo sport anche quest'anno tornerà nelle scuole dell'infanzia comunale la giunta di Arezzo questa mattina ha deliberato di aderire all'iniziativa gioco sport a sport giocando promossa dal Comitato regionale Toscana del CONI attraverso le sue delegazioni provinciali il progetto vedrà coinvolte per il periodo gennaio-maggio le scuole comunali dell'infanzia Don Milani, Orciolaia, Sitorni e Pallanca il progetto è finalizzato alla promozione delle attività ludico-motorie in ambito scolastico e tende a trasmettere attraverso l'educazione motoria la conoscenza di sé e del mondo e ancora sport adesso è stato un successo questo fine settimana per il gran galà degli sport da combattimento abbiamo un nuovo campione italiano dei 76 Daniel Velea Daniel Velea è salito sul ring e ha conquistato il titolo italiano in uno dei match più attesi della 26esima edizione delle stelle del ring Velea ha portato a casa il suo titolo italiano tanto desiderato da Dani dopo dei match insomma che non sempre sono andati bene quindi questa volta si è avuto la rivalza e quindi siamo molto contenti per lui è stato il Palace Sport Extra Mario D'Agata ad ospitare uno degli eventi più attesi e partecipati dedicati agli sport da combattimento scandito da una serie di incontri tra i migliori atleti del panorama nazionale ed internazionale una bella affluenza insomma di gente tra atleti e pubblico siamo molto contenti 14 combattimenti tra professionisti di kickboxing che hanno portato all'assegnazione di un titolo intercontinentale due titoli europei e un titolo italiano a Sebastian si licato il titolo intercontinentale FT nella categoria super massimi uno dei combattimenti di maggior prestigio che ha visto l'italiano opposto al rumeno Tolea Ciubac La ginnastica Petrarca in pedana al Grand Prix 2023 con Gimestrada il panorama ginnico italiano si è ritrovato infatti a Modena per il grande evento celebrativo di fine anno promosso dalla federazione alla presenza di tutti i principali protagonisti dell'ultima stagione sportiva e in questo contesto d'eccezione ha avuto l'opportunità di esibirsi anche il gruppo Aretino Fulcro è stata la campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere e le ginnaste Aretini hanno presentato l'esercizio dal titolo Stop alla violenza sulle donne che ha commosso ed emozionato il pubblico presente Questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci Grazie Grazie